Tutto sulla respirazione, ispirate e quando espirate dite amami, amami. È un film che nasce all'interno di una scuola, cioè di una scuola di cinema, e contemporaneamente incrocia il percorso di disegnamento che Lucia Vasini, che era il protagonista del film, fa con i pazienti psichiatrici di una asola di Piacenza. Comunque, quello che mi è piaciuto è soprattutto quando abbiamo fatto le scene con i pazienti, che loro dovevano recitare, e lì è stato interessante. Perché allora erano grandiosi, e io non me l'aspettavo questo, perché ripercorrere il processo dall'inizio, ho detto adesso facciamo finta, questo è un film, e questo è il primo giorno, vi ricordate come quando io sono venuta il primo giorno, però io non mi chiamo Lucia, mi chiamo Antonia. Antonia, Antonia, Antonia scusa, a me viene da piangere, mi sta montando su un'ansia. Poi c'è Daniele Maggioni, che è produttore, amico da tanti anni, amico anche del festival. Se lo posso? Ho comprato il pubblico.